Ben ritrovati su Sicilia24 per un nuovo appuntamento con Spazio e Notizia che apriamo di un importante progetto ad Acicastello fermenti in comune progetto che prevede anche la riqualificazione di Piazza delle Palle ma ci racconta tutto Lucio Di Mauro. Presso l'aula consigliare di palazzo del municipio di Acicastello il presidente della fondazione Sport City Fabio Pagliara ha illustrato il progetto Next Gen Lights Up Piazza delle Palle fermenti in comune annunciando la data dell'Agatron che darà il via alla raccolta di adesioni e di idee dei partecipanti. Il progetto finalizzato a favorire l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani, il benessere e la salute mira a riqualificare e animare Piazza delle Palle ad Acicastello attraverso la realizzazione di un playground polifunzionale e sostenibile mediante un processo decisionale partecipato. Acicastello già sposa questo progetto nel 2021, aderisce alla carta di Toronto per l'attività fisica quindi già un documento importante mondiale e da seguito anche con questo progetto a quello che già è un iter avviato da questa amministrazione, diversi luoghi dove fare attività motore che diventa veicolo di salute a tutti gli effetti è veicolo di salute e quindi Cicastello è assolutamente in rotta su questa direzione. Siamo contenti come amministrazione comunale decisamente per avere la possibilità di riqualificare e ripeterizzare spazi urbani importanti attraverso quella che è dell'attività sportiva, culturale e anche del benessere ambientale che hanno insieme un'importanza verso il sociale e soprattutto verso i giovani. Per noi è un grandissimo orgoglio accogliere questo progetto proprio perché ci spinge proprio a noi come amministrazione comunale di attenzionare ancora sempre di più la pratica sportiva. Innanzitutto è un'iniziativa che apre il più possibile ai giovani, in realtà è molto semplice, c'è la possibilità non soltanto di partecipare per poter poi vivere quello che riusciremo a realizzare, cioè dei piccoli miglioramenti di arredo urbano all'interno di Piazza delle Palle per farla diventare una piazza anche di sport, ma in realtà in questo modo è data la possibilità ai giovani partecipando di pensarla, di capire verso quale dimensione, verso quale direzione, quindi un meccanismo in cui dal basso, in questo caso anche proprio dai giovani, nasce questa possibilità di immaginare un futuro. Lo sport parte dalle basi dai giovani, parte dalle scuole, parte dalla strada per i ragazzi, lo sport è foriero di benessere fisico, di sviluppo psicofisico, di educazione al rispetto del prossimo e di quello che ci sta intorno, di disciplina, tutte queste cose fanno parte della vita quotidiana di tutti i ragazzi e quindi è giusto che loro pratichino uno sport, sia esso agonistico che dilettantistico. Chiaramente la riqualificazione di una piazza dà modo a tutti di partecipare attivamente allo sport, quindi anche una camminata, anche un piegamento sulle gambe, anche una passeggiata con il fidanzato o la fidanzata dà senso di benessere, quindi lo sport è benessere ed è giusto che lo pratichino tutti, dal più piccolo al più grande. Ed ora la cronaca partendo dal grave fatto avvenuto a Gioiosa Marea nella Messinese, un militare in pensione della Guardia di Finanza, un 65enne, ha infatti ucciso a coltellate la moglie di 61 anni, poi si è tolto la vita. Il fatto, come detto, è avvenuto a Gioiosa Marea nell'abitazione della coppia, Gioiosa Marea, un piccolo paese del litorale tirrenico messinese. A dare l'allarme ai carabinieri sono stati alcuni vicini di casa. Secondo le prime testimonianze, l'eliti tra i due congiugi, genitori di due figlie sarebbero state frequenti. Cambiamo ancora argomento ad Acireale. Nella Catanese un trentenne è stato invece arrestato dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. Nascondeva la cocaina da spacciare in un materasso il servizio. I carabinieri della stazione di Aci Sant'Antonio hanno arrestato in flagranza un trentenne di Acireale, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma, beneficiando di una pregressa attività info-investigativa, hanno messo sotto la lente di ingrandimento i movimenti di un giovane riconosciuto nella persona del trentenne, a loro già noto per spaccio di droga. Le attività del trentenne e i suoi movimenti, concentrati nella tarda serata, si svolgevano oltre all'interno di un immobile disabitato in via Sciarelle, al quale del trentenne pur non essendone proprietario vi accedeva con le chiavi, nonché all'esterno con i classici contatti con diverse persone nei pressi dello stesso immobile. Nella serata pertanto i carabinieri sono entrati in azione procedendo prioritariamente alla perquisizione domiciliare presso l'abitazione del trentenne ad Acireale, mentre altri militari posizionati in modo defilato presso l'immobile disabitato sono rimasti in attesa. Al termine della perquisizione presso l'abitazione del trentenne, i carabinieri hanno rinvenuto la somma in contanti di 155 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio e dunque sequestrata, e hanno acquisito tutte le chiavi presenti in casa per verificare se il trentenne avesse effettivamente la disponibilità delle chiavi d'accesso all'immobile disabitato. Raggiunta l'abitazione in argomento, i militari sono riusciti ad aprire il portone d'ingresso principale con una delle chiavi trovate a casa del pusher, mentre nel prosieguo della perquisizione i carabinieri si sono dovuti fermare davanti alla porta di accesso dell'unico appartamento esistente che non si apriva con nessuna delle chiavi trovate nella disponibilità del giovane. Messo alle strette dai carabinieri, il trentenne, forse temendo più gravi conseguenze giudiziarie, a un certo punto si è chinato vicino a una vecchia scarpa presente sul pavimento antistante alla porta, prendendo dal suo interno una chiave con la quale i militari hanno poi aperto la predetta porta, accedendo all'interno dell'appartamento. Durante le operazioni di ricerca il trentenne ha spontaneamente indicato ai carabinieri un materasso dove nascondeva della sostanza stupefacente ed egli stesso ha prelevato dall'interno del materasso una busta di plastica con all'interno cocaina del peso totale di 52 grammi. I carabinieri, nonostante il trentenne abbia dichiarato di non essere in possesso di null'altro, hanno comunque proseguito la perquisizione trovando all'interno del medesimo materasso un altro sacchetto di plastica contenente cocaina già suddivisa in 50 dosi termosaldate del peso complessivo di 15 grammi, nonché un bilancino digitale di precisione perfettamente funzionante trovato in un armadietto della cucina. Il trentenne è stato sottoposto dai carabinieri alla misura cautelare degli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto. A Florida, nel Siracusano, i carabinieri della locale tenenza hanno invece arrestato un 33enne il quale, sebbene sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora con permanenza nell'abitazione nell'arco dell'orario notturno, violava ripetutamente la citata misura per commettere furti. I carabinieri hanno accertato, tramite l'analisi delle telecamere, che l'arrestato era responsabile di alcuni furti avvenuti nottetempo ai danni di attività commerciali della città. L'autorità giudiziaria ha quindi emesso il provvedimento di aggravamento e i militari lo hanno rintracciato e sottoposto agli arresti domiciliari. Un altro arresto è stato invece effettuato a Trapani, sempre dai carabinieri. Si tratta di un ex pastore evangelico accusato di violenze sessuali nei confronti di alcune ragazze. Si aprono le porte del carcere per l'ex pastore di una chiesa evangelica pentacostale di Marsala, condannato in via definitiva a sei anni e otto mesi per violenza sessuale nei confronti di alcune ragazze all'epoca dei fatti minorenni. L'uomo, che deve scontare un residuo pena di cinque anni e mezzo su provvedimento restrittivo emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo, non era reperibile presso il proprio domicilio. I carabinieri di Trapani hanno pertanto avviato una mirata attività per rintracciarlo e grazie anche alla collaborazione di alcuni cittadini sono riusciti a localizzarlo nel quartiere popolare trapanese Fontanelle. I carabinieri, nella serata del 9 marzo, hanno fatto scattare il blitz e l'hanno bloccato. L'uomo deve scontare la propria pena per abusi sessuali commessi su alcune giovani che frequentavano il luogo di culto. Le indagini, all'epoca dei fatti, erano state svolte dai carabinieri di Marsala, che già nel 2017 avevano arrestato l'ex pastore. L'uomo, oggi 72enne, abusando dell'autorità derivante dal proprio ruolo di guida religiosa, in reiterate occasioni, durante momenti di preghiera, costringeva le vittime a subire atti sessuali convincendole che così si sarebbero liberate dagli spiriti maligni che le possedevano. A Palermo sono stati invece confiscati beni per circa 500 mila euro nei confronti di un esponente della famiglia mafiosa di Palermo Portanuova. Tutti i dettagli nel servizio. Le attività d'indagine finalizzate all'individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, svolte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Palermo, avevano già portato nel luglio del 2017 all'emissione da parte della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, che aveva accolto le richieste della locale procura della Repubblica di un provvedimento di sequestro di beni per un valore complessivo ad oggi quantificabile in circa 500 mila euro a carico di Tommaso Lopresti. Con l'odierno provvedimento la confisca di primo grado emessa dalla stessa autorità giudiziaria nel novembre della 2020 è stata dichiarata irrevocabile con sentenza della Corte di Cassazione e l'ingente patrimonio riconducibile a Cosa Nostra è entrato definitivamente a far parte del patrimonio dello Stato. Lopresti era stato tratto in arresto nell'aprile del 2014 nell'ambito dell'operazione denominata Iago con l'accusa di aver rivestito il ruolo di vertice del mandamento mafioso di Palermo Porta Nuova, dirigendone le dinamiche delittuose con particolare riferimento alle attività estorsive, al traffico di sostanze stupefacenti, alla gestione illegale di giochi e scommesse riportando una condanna in primo grado a 12 anni di reclusione confermata con sentenza della Corte d'Appello di Palermo e in atto è detenuto presso la casa circondariale di Voghera. Il quadro probatorio raccolto nell'ambito delle indagini patrimoniali è stato in grado di dimostrare l'esistenza di beni immobili nella disponibilità di Tommaso Lopresti ma di fatto intestati a terze persone al fine di celarne la riconducibilità diretta e così scongiurare l'eventualità di un sequestro patrimoniale. Il provvedimento di confisca definitiva ha riguardato il complesso dei beni aziendali riconducibile all'impresa individuale Dalia a Fabio con attività di autoriparatore avente sede a Palermo. Un magazzino sito sempre a Palermo dove si svolge l'attività connessa alla suddetta impresa individuale e un'abitazione intestata a Loredana Miragliotta. A Catania due soggetti sono stati invece arrestati dagli agenti della Polizia Ferroviaria per furto di rame. Il servizio. Due arresti, cinque indagati, 685 persone controllate, 169 bagagli ispezionati, 112 agenti impegnati in 57 scali ferroviari della Sicilia. Sono questi i risultati conseguiti dal compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia durante la seconda giornata dell'anno dedicata all'operazione Stazioni Sicure organizzata a livello nazionale dal servizio Polizia Ferroviaria nella giornata dell'8 marzo. Gli operatori della Polizia Ferroviaria anche con l'ausilio delle unità cinofile delle questure di Palermo e Catania hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione sui treni e in un deposito bagagli al fine di incrementare ulteriormente il livello di sicurezza in ambito ferroviario. L'operazione si è svolta con il coordinamento della Sara Operativa della Polfer che ha dislocato le pattuglie equipaggiate con metal detector manuali e palmari in base al flusso dei passeggeri in transito nelle aree maggiormente sensibili. A Catania i poliziotti hanno tratto in arresto due soggetti catanesi pluri pregiudicati di 35 e 33 anni poiché resisi responsabili di furto aggravato di rame in concorso fra loro. Il materiale è stato rinvenuto a bordo dell'autovettura poi risultata rubata utilizzata dai due uomini come mezzo di trasporto della refurtiva poco prima sottratta circa 120 metri di cavi di rame riconosciuti e riconsegnati al personale delle ferrovie. Inoltre sempre a Catania nel corso di un servizio congiunto con la Polizia Municipale gli agenti hanno elevato diverse sanzioni per un totale di circa 20 mila euro. Hanno anche denunciato in stato di libertà un'automobilista 43enne di Catania poiché trovato sprovvisto di patente di guida. Traffica di denunce a Caltanissetta da parte della Polizia sono ben 22 le persone deferite, 4 ad esempio sono state denunciate per il reato di danneggiamento, altre tante per maltrattamenti in famiglia, minacce, percosse e lesioni personali, 2 per violazione di domicilio e poi altre persone denunciate per varie tipologie di reati come ad esempio truffa e tentato furto. Con questa notizia ci fermiamo, per il momento è tutto ma ci ritroviamo più tardi ovviamente su Sicilia 24. Grazie. 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 Grazie.